Quando ci si occupa di qualcosa da moltissimi anni si pensa di aver accumulato una vasta conoscenza sull'argomento. In effetti si sono lette decine di migliaia di pagine e fatta molta esperienza. Ma quando ci si occupa di cose accadute molti secoli addietro bisogna sempre mantenere un'attitudine di sano realismo e non avere un atteggiamento che definirei alla ranche il grande storico tedesco che pensava che la storia può ricostruire effettivamente ed esattamente quello che era accaduto. Io penso che ciò a cui si deve puntare è una plausibile versione di quello che potrebbe essere accaduto basandosi su fonti multipli. Quando parliamo delle origini del canto liturgico cristiano dobbiamo fare nostro questo atteggiamento di grande prudenza in quanto quello che certe tradizioni ci hanno tramandato come assolutamente affidabile potrebbe alla luce dell'investigazione storica più recente non esserlo. Si prenda per esempio la definizione del canto liturgico come canto gregoriano in onore del grande papa gregorio primo che avrebbe avuto un ruolo attivo nella costituzione di questo repertorio in realtà gli studiosi credono essere questa un'attribuzione senza fondamento reale e ci sono altri esempi il cristianesimo nasce in un periodo storico complesso nasce fra un popolo sottomesso ma un popolo con una grande fede in dio un dio che in vari modi si era manifestato al popolo ebraico che gli dava un culto spesso di grande solennità. Non tenere conto del contesto ebraico potrebbe essere un grande errore quando si parla del canto liturgico cristiano anche se pure qui gli studiosi non sono propriamente sicuri di come questa influenza ebraica è venuta ad essere ma credo ci possono essere pochi dubbi sul fatto che l'influenza ebraica c'è stata. Allora cercheremo di capire un poco meglio come poteva essere l'ambiente musicale e liturgico nell'ebraismo del primo secolo dell'era cristiana per l'ebreo del primo secolo i luoghi di culto erano essenzialmente due se escludiamo la preghiera privata il tempio e la sinagoga. La musica in questi luoghi non poteva essere più diversa nel tempio c'era abbondanza di strumenti musicali e di cantori possiamo leggere nella bibbia come l'uso di strumenti fosse cosa comune lodatelo con squilli di tromba lodatelo con arpa eccetera lodatelo con timbani e danze lodatelo sulle corde sui flauti lodatelo con cembali sonori lodatelo con cembali squillanti ogni vivente dialoghi al signore conoscete queste parole purtroppo però alcuni le portano ad esempio per dimostrare come nella liturgia si dovrebbe usare ogni strumento possibile in realtà al tempo del tempio tutti gli strumenti erano conosciuti per dare lode a dio e il loro uso profano era sempre sottomesso alla destinazione sacra per il semplice motivo che tutto era sacro tutto era sacralizzato ma comunque il fasto del tempio finì per la distruzione portata dai romani nel 70 dopo cristo questo fu un colpo al cuore del giudaismo da quel momento la musica non poteva avere più il fasto che aveva conosciuto in precedenza ecco allora la sinagoga la sinagoga era un luogo in cui il ministero musicale era solitamente svolto da un cantore chiamato il messaggero del popolo molta parte delle esecuzioni coinvolgeva la cantillazione dei testi biblici il termine cantillazione è piuttosto recente ma quello che denota è una intonazione di un testo su una nota che nel caso dei recitativi liturgici cristiani può essere preceduta e anche seguita da delle intonazioni o conclusioni melodiche questa cantillazione sarà ora l'abito musicale che gli ebrei useranno per dare gloria a dio pur se porteranno sempre nel cuore il dolore per la distruzione del tempio si pensa che il primo cristianesimo possa essere stato influenzato più dall'atmosfera musicale della sinagoga che da quella del tempio questo perché nella mente di alcuni anche fra i primi cristiani il tempio veniva associato con la corruzione dei sacerdoti che vi erano addetti ma quello che sappiamo fra molte incertezze è che gesù e i suoi discepoli avevano conosciuto entrambi i luoghi